E caccia l'aggressore ad Arezzo dopo il doppio accoltellamento di domenica sera, un violento episodio ancora una volta ai giardini del Porcinai a pochi passi dalla stazione ferroviaria, sulle tracce del responsabile e la squadra mobile della questura di Arezzo. Erano da poco passate le 20 quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari dell'emergenza urgenza. Due uomini, entrambi magrebini, erano rimasti feriti da colpi di arma da taglio. Il ferito più grave, un quarantenne, è stato ritrovato sdraiato sulla pista ciclabile, raggiunto da più fendenti, in particolare all'addome. Al suo fianco una ragazza che chiedeva aiuto. Portato al pronto soccorso in codice rosso non sarebbe in pericolo di vita. Polizie e soccorritori hanno subito capito che anche un altro uomo era rimasto ferito nello scontro, di lui sembrava però non esserci più traccia. È stato ritrovato a poca distanza ed è stato portato in pronto soccorso con alcune ferite, soprattutto ad una mano. Gli inquirenti adesso stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della violenta vicenda. Dalle prime ricostruzioni pare che tutto sarebbe partito da un diverbio tra il quarantenne e l'aggressore per dissidi personali. Una lite sempre più violenta che il 25enne avrebbe tentato di sedare, ma ad un certo punto sarebbe spuntata l'arma e poi il doppio accoltellamento.